Benvenuti in questo nuovo video, sono diretto al quartiere generale Liberini Dico così perché stiamo andando nel suo piazzale dove ha tutto per smontare e rimontare uno scagna Per oggi non andremo a smontare niente, anzi andremo a installare gli accessori che ci ha inviato CR di Gambi, vi lascio in alto a destra l'icona del video se lo siete perso Settimana scorsa Così da farvi vedere il risultato finale E a farvi vedere anche che i prodotti aftermarket che loro rivendono sono perfettamente funzionanti Come se fossero originali Benvenuti ragazzi in questo nuovo video Io non sopportato questa cosa Ok Montiamo Il senchietto Ciao 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 No, te lo passo con l'altro allora E il mio l'ho fatto Sto uscito a mettere di nebbia È un traguardo Bella Vieni qua 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 Perché qui in pratica prendi la corrente e la porti ai stemmi giusto? Vieni qua 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 ha trovato il buco come andiamo andiamo bene sceso, spenti, accesi, spenti si, accesi, spenti, accesi, spente, accesi, accesi, accesi quindi il collegamento intanto fatto allora oh vieni, sono i cornetti, vieni faccio un'attima prova a chiudere la mascherina? piano piano? lo mettiamo così ah ok elettricista come che stavamo a fare qua? gli ultimi anzi gli ultimi la parte più importante è il bottone no? eh sì e il filo hai fatto passare stamattina spiega spiega che devo spiegare? eh come hai fatto? il collegamento? collegamento? ho passato il filo ho passato il filo dentro? adesso mettiamo il pulsante e poi il gioco è fatto? è fatto dici? dopo si vede vediamo il risultato vediamo il risultato alla fine? sì troppo forte cioè come autista fa schifo però come elettricista è bravo come procedono i lavori? tutto a posto andiamo a rimaccio magari con questa tuta collegamento quasi fatto manca solo a vedere sul stato finale anche se col giorno si vede poco e poi andiamo a vedere sul nostro canale Qua situazione è degenerata, l'ancornetta siamo arrivati alle pizze, ok lavoratore, la tua recensione, ti piace? Le luci mi piacciono, il camion è...